Ciao ragazzi, allora domenica è uscito uno dei miei ultimi full weeks of eating, quindi in questi video vi faccio vedere esattamente quello che mangio ogni pasto Ho fatto uno a 13 settimane dalla gara e poi ultimamente a 5 settimane dalla gara E poi ovviamente arrivano sempre diverse domande, voi mi chiedete cosa mangio, cosa compro durante la settimana, quanto spendo e così via Quindi ho deciso di fare questo video veloce, sono appena tornato in casa Sto un po' con un mal di gola, quindi sto cercando appunto di stare un po' al caldo per evitare di prendermi del male Visto che gli ultimi giorni che ho passato in Italia mio fratello tossiva come un dannato, quindi spero di non aver preso nulla Vi faccio vedere un attimo cosa ho comprato, sono andato in due negozi biologici Uno si chiama Den, che è aperto da poco a Kreuzberg, ha inaugurato letteralmente due giorni fa E poi un altro che si chiama Vitalia Ovviamente questa strata di roba che andrò a consumare nelle prossime settimane Quindi attenzione, settimane non nei prossimi giorni Perché appunto usando un pochino l'arte della moderazione Utilizzando appunto alcuni di questi prodotti che effettivamente costano tanto anche qui in Germania Non è che in Italia costa tutto un botto e qui in Germania invece ti regalano roba dietro Anche qui alcuni prodotti biologici, alcuni prodotti o superfood, chiamiamoli come vogliamo Costano leggermente di più rispetto ai prodotti convenzionali Però ovviamente, insomma, non è che vanno utilizzati etti o chili di roba Non è tanto la quantità quanto la qualità E vi assicuro che si possano creare degli spuntini proteici con poca roba Senza mettere chili di roba ogni volta Vi faccio vedere velocemente cosa ho comprato Allora cominciamo da qua Questo è un tempeh È un tempeh al curiandolo Abbiamo provato la stessa marca anche Ci siamo portati un paio di questi tempeh al curry Poi c'è Ghiros Quindi le spezie che utilizzano per fare il donor anche in crociera in Norvegia Fatto da questa coppia abbastanza inquietante Comunque questa è una soluzione per il tempeh portatile quando viaggio Visto che dovrò tornare di nuovo giù a Milano anche la prossima settimana Al posto del tempeh che faccio io Che avete visto appunto nei miei video 1,49, 400 grammi che compro dal No ristorante, dal negozio etnico vietnamita qui sotto casa Che vado a fare con questa ottima melassa Questa è la confezione che ho comprato l'ultima volta È un'ottima qualità prezzo 680 grammi per circa 7 euro Poi qui abbiamo dell'ottimo olio di cocco I miei grassi saturi che sto utilizzando appunto in questo periodo Visto che come avete visto la mia quota di grassi si è altata drasticamente Quindi triplicata rispetto anche solo a un mese fa Poi questa è cioccolata Questa qua è cioccolata fantastica Questo era anche lo sponsor della crociera High chalk È veramente, vabbè, fuori di testa Quindi quando rimane qualche grasso, un quadratino Anche qui senza esagerare Però la mia preferita in assoluto Questa è la preferita di Flavia La mia preferita in assoluto è questa Che compravo anche a Londra Love chalk È una marca, penso, olandese E questa è con i Coconebs E quindi con le fave di cacao a pezzi E il sale grosso Ed è, vabbè, cioccolato e sale per me è veramente il top Fanno anche una varietà con i mirtilli Però non è buona, è quasi acida, non mi piace Poi con Mennu, Mennu Hanselman Mi sono sentito ultimamente Faremo delle simulazioni della Peak Week Visto che mancano poco più di due settimane alla gara E quindi come vedete lo riconoscerete Rice Volkor Brae Vabbè, lasciamo perdere il mio tedesco Non lo imparerò mai E non lo voglio assolutamente imparare Perché li odio Scusate E questa è crema di riso Crema di riso che andrò a utilizzare Quindi andrò a utilizzare molti alimenti con low residue Con basso residuo Come fanno un po' i ciclisti per fare questa ricarica Ricarica prevista di 4200 calorie Quindi non vedo veramente l'ora Ne ho prese due confezioni Però probabilmente nel weekend andrò a prendere delle altre Visto che ho trovato questa crema di riso a buon prezzo Qui c'è del latte di riso e cocco Che vado ad utilizzare anche per preparare Dell'ottimo curcuma latte Che mi faccio appunto in questi giorni Un po' per il mal di gola E anche insomma perché mi aiuta a placare la fame Perché c'è un po' di spezie Fra cui pepe, ginger Quindi mi aiuta particolarmente Questa è semplicissima farina di riso 2,50 euro per 500 grammi O forse meno di 2,50 euro E questa la vado ad utilizzare per fare degli ottimi pancakes Quindi sto Bastanta tranquillo nel senso Riso è forse quello più digeribile Quello con più basso residuo per quanto mi riguarda Anche il grano saraceno è ottimo Però insomma La farina di riso sono sicuro che la digerisco da dio Meno fibra Meno gonfiore Meno proteine L'idea è quella di fare questa ricarica Interessante il protocollo Dopo poi magari condividerò con voi qualcosa nel prossimo resoconto la gara Però senza star lì a guardare più di tanto la distribuzione dei macros Cercare di raggiungere le calorie con i carboidrati Quindi è un sogno veramente Poi qua abbiamo Vabbè vi faccio vedere prima questo Questo è un piccolo Essener Brot Quindi quel pane buonissimo che compravo da Compravo sì ormai sembrano passati secoli Da vegans E questo praticamente Quando ho detto a Flavia Che lo davano anche come Praticamente assaggio a questo nuovo den Che hanno aperto a Kreuzberg Durante le inaugurazioni Ho detto prendermene uno Allora eccolo qua C'è anche la versione gigante Che io mi mangiavo Andate a vedere il video Four weeks No Thirteen Tredici settimane alla gara Nel full week of eating Faccio vedere appunto che mangio quello Qua ho preso Madonna Ora mi cade tutto Qua ho preso Circa 300 grammi Di ottimi semi di zucca Fantastici Ricchissimi di minerali Proteine Complete E comunque in questa fase In cui ho letteralmente triplicato i grassi Sono fantastici E cosa vado a fare con i semi di zucca Direi che praticamente Vi ho fatto vedere tutto Quindi sono rimasti Gli ingredienti finali Ci sono queste Cocoa Nips Che sono 7,99 Quindi 8 euro Per 230 grammi Queste Più le aronia berries Che sono praticamente Delle bacche Con altissima capacità Di antiossidanti Vado a fare Questa bellissima Questa bellissima cosa Il famoso Chia pudding Quindi qua ho messo 50 grammi Di semi di chia 20 grammi Quindi attenzione 20 grammi Non 200 grammi Di goji berries Quindi sì Le goji berry costano Però non ne dovete Mettere dei chili E circa 30 grammi Di semi di zucca Gli stessi che avete visto Vili Poi ho aggiunto Un po' di pbchum Oppure potete aggiungere Tranquillamente Un po' di proteine E praticamente messa In frigo Dopo una notte Viene questa consistenza Torta Che è veramente Fuori di testa Quindi Quello che andrò a fare Con queste cocoa nibs Con le aronia berries È semplicemente Cambiare un pochino Gli ingredienti Topping Di questo Pudding Che mi mangio Praticamente Nel pomeriggio E quindi Insomma Anche qua Metterò 20 grammi Di cocoa nibs 20 grammi Di aronia Quindi Capite benissimo Che è 200 Quindi qua sono 10 porzioni Qua 230 Quindi questi Questi barattoli Mi durano delle settimane Non dei giorni Poi ultima cosa Love and buts E vabbè Ho dovuto andare Dalla tipa Letteralmente Con google translator Queste sono Foglie di Piscialetto Si chiamano da noi O dandelion Tarassaco Che è praticamente Un ottimo Diuretico naturale Così come la betulla Oppure Prese ne sono tante La pilosella Prendevo anche da mio padre Quando facevo le prime gare In Italia Abbiamo un erboristeria In Italia Il colmo Sono stato in Italia Nella mia erboristeria Letteralmente ieri l'altro Ovviamente Le direttive Il protocollo Per la peak week Di menno È arrivato ieri notte Quindi oggi Sono andato in questa Pseudo erboristeria Questo posto Che si chiama Vitalia A comprare anche Le foglie Attenzione Foglie non radici Di tarassaco Perché sono molto più potenti Come diuretico naturale Quindi questo Lo prenderò Appunto Per simulare La peak week Nei prossimi giorni Con questo è tutto Non vi faccio vedere Il mio faccione Perché non mi faccio La barba da 5 giorni Comunque lo vedrete Molto presto Vi saluto E fatemi sapere Se vi piacciono questi video Ciao A presto A presto Grazie a tutti